salve permesso è l'idraulico ha chiamato ha chiamato lei o salve ok molto bene la pellazza un po di mazze grazie grazie una sella un arco queste non fanno mai schifo due lance 5 perché io prima di tutto allora adesso sono appesantito vengo in casa svuoto poi innanzitutto facciamo l'armadio ma il b non si può pinnare vai killer tu fagli gli animali non ci provo neanche inserire il pinguara glielo faccio direttamente brutalmente proprio buongiorno guardo guardati la scena che scena tirati e guardati su ah ma proprio stai qua prendiamo un sacco di selle ragazzi dai comunque io no non lascio prigionieri fra chi se ne frega che stai piccolando me bastardo non sto colpendo te bravo ma c'è un raptor sto qua complimentoni però che salita di merda fra non riesca a salire la colpa del coraggio per caso ma quante matte c'aveva sto qua che cazzo faceva bella lì gg gli facciamo anche il letto così non respogli neanche nella za certo prendi tutto anche quella del raptor così ci abbiamo la seconda finalmente oh che bella che non ci arriva la sella sto raptor oh que pecat cosa c'è per l'armadio ah un po' di robino un po' di narcotici un po' di pelle una prode media un po' di metallo è per ripiera francese sta con qui allora chi se ne frega cosa c'era di sopra carina però fatta bene peccato per il tetto che non c'è ok aveva dato da mangiuare ai dinosaurini avrà una brutta notizia quando log c'è del legno qui ah no meglio ancora zolfo mio bene direi che abbiamo concluso grazie mille per le tue risorse alla prossima se ci rincontriamo ce lo segniamo? uè alors faccio uno screen che poi magari glielo postiamo se lo becchiamo è stronzo ciao aspetta vi faccio una foto anche del box vuoto ah ma la vede domani mattina tanto ciao a tutti ciao a tutti